O bianco o nero, vi è offerta da Traffic Technology, sicurezza stradale. Caro pubblico di O bianco o nero, benvenuti in piazza. Oggi cercheremo di parlare e di chiarire il ruolo della politica e il ruolo anche dei cittadini, che apparentemente dovrebbero, anzi si sentono un po' stanchi dei politici, insomma la stessa solfa che sentiamo oramai da qualche anno. Però in qualche maniera dovrebbe anche il cittadino normale cominciare a partecipare e anche quelle che sono le sorti del proprio futuro all'interno di una comunità, come può essere le piccole comunità come queste Venete e anche le grandi metropoli, anche perché l'interprete principale poi dalla fine è sempre il cittadino. Lo faremo in compagnia del sindaco di Bassano del Grappa, Stefano Cimatti, con la quale ringrazio, Paolo Gobato che è vice sindaco di un'altra piccola cittadina a Pove del Grappa, 3 mila abitanti, anche con lui sentiremo il polso della situazione, grazie Paolo, e Alessandro Ticci, ti sto usando ultimamente, Ciao, buonasera a tutti. Allora, primo cappellozzo, siccome andiamo in nazionale mi piacerebbe anche capire come stiamo in questo momento vivendo le sorti della nazione attraverso i sondaggi, attraverso le non elezioni dove vediamo elette gente che comunque non è stata eletta dal popolo e poi capire cosa vuol dire la destra e la sinistra, se possiamo in un momento storico ricordare quello che era la sinistra e la destra di 40 anni fa e oggi mi pare che sia tutt'altra cosa. Una domanda della faccia a bruciapelo, tanto per dire il nuovo ministro, il nuovo presidente del Consiglio sarà un centro-sinistra del PD, quindi chiaramente il logotipo ti porta a sinistra, quindi tutti pensano al partito proletario, al partito di sinistra, quando in realtà è un ex-democristiano. Io ti rispondo come cittadino, come operatore della comunicazione, diciamo che in questo periodo stiamo mangiando minestrone tutti i giorni, non da oggi ma soprattutto adesso e questa fase da una parte è molto interessante, dall'altra anche fin troppo frenetica e non riusciamo veramente a capire verso dove stiamo andando. C'è quasi la corsa a cronometro sulla formazione del governo, a tutto questo contribuisce lo stesso Renzi ad esempio quando dice che vuole fare una riforma al mese, caspita, se riuscirà a farla, tanti auguri conoscendo gli ambienti romani, veramente tanto di cappello. In questa fretta, in questa situazione poi non dimentichiamoci che nel nostro piccolo, nella nostra regione e in tante altre parti quest'anno poi si andrà a votare anche per il rinnovo dei comuni e anche in questa fase io scrivo per un portale web a Bassano del Grappa, c'è un periodo che io chiamo del tritacarne, ogni giorno esce un candidato che poi viene regolarmente smentito oppure che viene collocato da una parte o dall'altra. Tutto sommato però questo è anche frutto di un periodo in cui la destra e la sinistra non hanno queste connotazioni così nette né esempio, proprio la città di Bassano del Grappa retta dal nostro sindaco che non senza difficoltà, magari potrà dirlo anche lui, sta gestendo una maggioranza che ha componenti di destra e componenti di sinistra. Ma ci arriveremo dopo, adesso noi li mettiamo un po' in panchina. Per dire che le categorie non sono più quelle di una volta. Lasciamoli un po' in panchina i nostri politici, che poi per me un sindaco non è un politico, comunque un primo cittadino. Un'altra riflessione che facevo in questi giorni, proprio anzi, proprio in questi giorni, nel senso che non so se tu sai che l'Ussuria è andata a Soci, l'hanno arrestata. Sì, il femminile era andata. Vestita da donna credo. Sì, poi l'hanno rilasciata. Quello che a me ha un po' infastidito. Caro Alessandro, e parliamo di comunicazione, perché la comunicazione può essere avvelenata e può avvelenare anche i nostri interpreti, in questo caso, come si avvelena anche ad altre sfere, anche a livello nazionale. Perché la notizia che è trapelata è stata una notizia bomba, dove tutta l'Italia è preoccupata, con tutto il rispetto che ho, per Luxuria, di Luxuria, che è andata là volontariamente, nessuna l'ha mandata là, il governo italiano non l'ha mandata là. È andata da sola, si è vestita a stelle e strisce, a qua, come ha voluto e quindi non c'è nulla di male. Quello che un po' c'è di male, caro Alessandro, e io mi incazzo veramente qua, è che abbiamo due marò che sono andati per le forze alleate, ci stiamo disinteressando, e in questi giorni la Farnesina si interessa di Luxuria, con tutto il rispetto, non voglio mica dire che non si debba interessare, ma nella campagna elettorale, fagocitando tutto, questi due poveri italiani, io sono contro le guerre, non li avrei neanche mai mandati, ma sono là per volontà, intanto delle Nazioni Unite, del nostro governo, insomma che figura di... Sì, diciamo che l'episodio di Luxuria, come dire, è frutto anche del momento, cioè del risvolto mediatico del fatto che è accaduto in occasione delle Olimpiadi Invernali, il personaggio comunque fa notizia, c'è un dibattito sui diritti di una determinata parte di popolazione in Russia, eccetera, eccetera, e questo dal punto di vista del circo mediatico è un insieme di ingredienti necessari e sufficienti per fare casino. Il discorso dei Marò, invece, è una questione che è difficile raccontare tutti i giorni, ti parlo sempre da giornalista, lì veramente è una situazione assurda, non abbiamo il tempo per analizzarla, ovviamente se ne è parlato tanto, ma siamo nella fase in cui se ne parla se c'è la notizia, se vengono liberati, se vengono condannati, o se eccetera, eccetera. Ma da giornalista, io dico sempre questo, adesso voglio far entrare in campo i nostri ospiti, se l'informazione dobbiamo venderla perché fa un audience e fa un grosso share, va a danneggiare quello che è l'educazione dei cittadini, perché poi i cittadini si sentono un po' così buttati ai 420, non sanno più quali sono le reali esigenze di un paese, perché ci sono degli oggettivi molto strani, si parla di concretezza senza mai dare una risoluzione della concretezza, tante cose, lo faremo tra poco dopo una piccola pausa pubblicitaria con i nostri ospiti. Ti va bene? Benissimo. Una piccola pausa. Fis, porte basculanti, chiusure sezionali, serrande, cancelli estensibili, chiusure e tagli a fuoco. Fis, la qualità è l'eccellenza di un marchio prestigioso. Fis, una stretta di mano che dura da 40 anni, in via Campagna 164 a Galliera Veneta. I radiocomandi Rendevice sono progettati con elettronica digitale di ultima generazione, a basso consumo ed altissima affidabilità nel tempo anche in caso di urti o cadute accidentali. Rendevice, i controlli di sicurezza, sono affidati a microprocessori in costante comparazione reciproca, codice univoco di codifica e sofisticati controlli digitali dei dati trasmessi, con protocolli di trasmissioni brevettate che conferiscono al radiocomando una sicurezza superiore alle più severe normative internazionali. I radiocomandi Rendevice sono insuperati per design ed ergonomicità. Rendevice, radiocomandi industriali utilizzati per gru, carroponti, mezzi idraulici e cingolati, automazioni di ogni genere. Rendevice, impulsi d'autore. Ben entrati, gentile pubblico di Bianconero. Allora, Sindaco Stefano Cimati, sembrerebbe quasi paradossale questa trasmissione che parte da lontano per poi arrivare al nocciolo della questione. Io credo che ci sia un'emergenza in Italia, sia l'emergenza della comunicazione a tutti i livelli, sia internet, sia youtube e soprattutto ancora nella televisione. Se una televisione commerciale o no vuole far del male, tra virgolette, una persona ci riesce tranquillamente, mettendo da parte quelle che sono le reali notizie piuttosto le reali esigenze della popolazione. Io credo che lei sia stato uno di quelli abbastanza contro pelo tutti i giorni. Io non capisco perché lei non abbia fatto smettere tanto di piovere a Bassano, perché anche quella è una colpa sua. Però passa questo tipo di informazione. Piove troppo, c'è una piccola lesione su una casa che piove dentro, è colpa del sindaco. Il tribunale è colpa del sindaco. La gente non sa se il sindaco ha veramente una colpa o se il sindaco purtroppo deve anche sottostare delle regole che partono dalla regione e poi dallo Stato. Quindi vorrei una risposta da parte sua. Intanto secondo me il sindaco ha sempre torto perché qualsiasi cosa succede, essendo a capo di un'amministrazione si dice il pesce pussa dalla testa, quindi hai delle responsabilità oggettive e te le prendi. Naturalmente poi viviamo un mondo, io dico che il cancro della politica è stato il bipolarismo, perché una volta quando ero giovane c'erano tanti partiti, nessuno si poteva permettere di attaccare l'uno o l'altro, perché tanto erano tanti gli avversari e l'unico modo per emergere era quello di dimostrare di essere più bravi degli altri. Oggi invece con il bipolarismo si cerca solo di criminalizzare l'avversario, allora non dico piove, ma piove dentro è colpa del sindaco che ha fatto piovere dentro, la strada non è stata asfaltata, magari uno non tiene conto che fa troppo freddo per asfaltarla, guai doveva asfaltarla, se poi l'asfaltava non doveva farlo perché era troppo freddo, c'è sempre la criminalizzazione e in questo si inseriscono anche dei mezzi di informazione, beh io devo dire però che vorrei distinguere il mezzo di informazione che è una cosa diciamo non realistica come mezzo, ma chi lo fa? Perché io conosco tanti giornalisti, giornalisti seri che fanno vedere le cose giuste, fanno vedere le cose sbagliate, è chiaro si dice sempre che un albero che cade fa più rumore di una foresta che cresce, però ci sono giornalisti seri. Come ci sono politici seri. Certo, ma certamente, invece ci sono anche tanti giornalisti, no tanti, c'è qualche giornalista che evidentemente per altri scopi che generalmente non sono suoi ma sono di chi lo paga, ha interesse a far vedere le cose solo da un punto di vista, a criminalizzare. Ed è la questione del bipolarismo, oggi si criminalizza l'avversario, in continuità e questo non va bene, ma non va bene soprattutto questa generalizzazione, perché quando tu a un certo momento ti trovi di fronte ad essere considerato di tutto un erbo un fascio, ognuno non va bene, tutti i ladri, tutti i mascalzoni, io dico sempre, proprio in questi giorni ho avuto una lunga discussione con il movimento 9 dicembre, quindi con i contestatori, dicendo guardate che una persona per bene a furia di dargli del ladro si stufa di stare in quel posto e se ne va, un ladro gli puoi dare del ladro finché vuoi rimane lì e alla fine avremo solo i ladri, perché le persone per bene si stuferanno di fare politica, quindi bisogna un po' rivedere tutto quanto. Io credo che i mezzi di informazione hanno molte responsabilità, però dico che finché c'è una critica e c'è un ragionamento, va bene, quando poi ho visto io una volta passando per una strada uno con una telecamera che riprendeva dei piatti di plastica e dei bicchieri di plastica che a mio giudizio arrivando mi pareva che le avesse buttati lui stesso, la dice lunga, circa voler criticare, voler creare i cali. Questo succede spesso perché si deve anche creare la notizia dove non c'è, questa è un'esigenza becera della nostra informazione che dobbiamo sempre dare qualcosa di diverso. Paolo, però ci sono delle cose che si possono fare, però anche là credo che il rapporto tra le istituzioni, l'informazione e i cittadini sia, come dire, passami il termine insomma, un po' mio per una parte e presbite dall'altra. Al cittadino non sa mai cosa sia la cosa giusta. A me è venuta in mente ancora un anno e mezzo fa un'altra trasmissione di queste, abbiamo parlato delle nuove tecnologie, viene in mente le smart per quanto riguarda l'illuminazione di una città dove danno dei grossi risultati, però la percezione del cittadino non è il fatto che possa risparmiare, che ne potrebbe beneficiare l'ambiente, che potrebbe quel risparmio essere poi dopo introdotto o usato per altre necessità. Passa sempre il discorso costa caro oppure non ce lo possiamo permettere, però non credo che sia proprio del tutto vero. No, non è così, infatti. Tu hai citato prima il progetto smart che è un progetto che io sto portando avanti da più di tre anni con grosse difficoltà ed è un progetto che per il nostro comune è a costo zero. Sono partito da un concetto che, anzi sono partito da un problema. Entro il 2015 le dobbiamo sostituire per legge le lampade ad alto consumo. Quindi ho fatto fare una ricerca su 585 lampade che abbiamo nel nostro comune, 335 sono a vapore di sodio e quindi di mercurio, quindi bisogna cambiarle. Un costo stimato solo di lampade che si aggira sui 40 mila euro, non è una grossa cifra, però ti dà un risparmio così modesto. Riuscire a fare un progetto di smart, cioè di rendere attraverso onde convogliate i cavi dell'illuminazione, fare un progetto di rendere la città smart, cioè di poter collegare tutte le lampade insieme e poterle telegestire attraverso un sistema computerizzato e l'utilizzo di un orologio astronomico, si possono risparmiare dei bei soldi. Nel senso che il nostro comune circa spende 88 mila euro all'anno tra energia e manutenzioni. Un comune di 3 mila persone. sono 330 mila kilowatt totali che divise pro capite fanno 105 kilowatt a testa, che guarda caso è come più o meno la media nazionale. Però... In soldoni la signora Enza o Maria che è... 28 euro a testa. A testa all'anno. No. Però è metà di quanto spende la Germania. Metà di quanto spende la Germania. Allora, io ho fatto un calcolo che vuoi perché alcuni comuni non possono fare i mutui, il patto di stabilità piuttosto... Noi abbiamo un vincolo che non possiamo fare i mutui. Però, però, agendo sulla spesa corrente e appunto non cambiando solo le lampadine, ma dotando del sistema smart tutto l'impianto di illuminazione, riusciamo a spendere metà. Cioè 44 mila euro possiamo risparmiarli. E questi 44 mila euro per una decina d'anni riescono a finanziare il progetto smart. Quindi, chiaramente, il cittadino subito non ne ha un beneficio perché io gli 80 mila euro gli spendo comunque, no? Però dopo dieci anni la smart diventa mia. E nel frattempo posso profilare meglio l'illuminazione, posso agire con tempismo sul... So quando il tal lampione è bruciato, la tal lampadina va sostituita, lo posso fare immediatamente con la mia squadra senza aspettare due giorni dopo, chiamare... e quindi ho anche molta più efficienza. Perché in questo planning, in questa computerizzazione, sai esattamente cosa sta succedendo. Esatto. Lampadina per lampadina. Esatto. E in più, in più, con la smart io ho un lampione attivo, io ho un punto attivo dove posso collegarci tanti altri servizi. La telelettura del gas, un wifi che può essere anche gratuito per i cittadini, dipende dai contratti che uno può fare. Dei totem per i ciclisti, uno si ferma, ha il suo smartphone, dice sei arrivato nel comune X, siamo 3 mila abitanti, abbiamo due pizzerie, tre pizzerie, quattro bed and breakfast, c'è questa sagra, c'è questa fiera, le camere costano qui. Wi-Fi gratuito. Wi-Fi gratuito. Oppure, non so, le telecamere, le videosorveglianza. Un'altra cosa... O una macchina elettrica. Una macchina elettrica che si carica, l'energia costa poco, lo fai a spesa del comune. Oppure anche per la sicurezza, un pannello variabile dove ti dice la tasta strada è chiusa, una macchina, fra 100 km ci sono dei problemi, oppure conteggio delle auto, qui passano 500 autori. Posso riassumere un po' perché la signora Enza, mia zia che abita a Mesagne, non ne frega niente delle smart perché, insomma, si sa che le persone anziane, però noi dobbiamo avere una visione. È vero? La visione sa perché i giovani, grazie a queste nuove tecnologie, possiamo lasciargli un mondo migliore e quindi abbiamo assolto il nostro dovere di vice sindaco, assessore, eccetera. Quindi non si risparmia subito alle persone, dopo dieci anni è della comunità, il manufatto torna a essere proprietà, la comunità, però tutto quello che si risparmia, se non ho capito male, può essere gestito con altre risorse, la buca, il marciapiede, o zone verdi, si chiamano risorse che possono essere veicolate. Aggiungo un'altra cosa, è vero che il comune, finché non ripaga il servizio, va a pareggio, però l'Italia, io consumo la metà di quanto consumavo prima. Ma poi sono i parametri di Chioto 20-20-20. Il protocollo 20-20-20, cioè 20% in più di energia rinnovabile, 20% in meno di anidride carbonica. Quella che respiriamo che fa poi male. E lo Stato consuma meno, il comune consuma meno, paga lo stesso, però l'Italia... Tenti caldo, perché questa qua è una cosa che dobbiamo approfondire, perché tu so che sei anche molto... questa è una cosa che potremmo dichiarare buona, una cosa che potrebbe essere funzionale ai cittadini, no? È già un piccolo passo, insomma piccolo, a voglia. Se tutti si dovessero trasformare così, non andremo a spegnere delle luci intere nelle vie, cercando, anzi con queste nuove tecnologie, di usare per bene il nostro territorio. Lo puoi profilare anche come vuoi. Dopo un periodo di rodaggio, i calcoli che ho fatto io sono fatti su una profilatura standard, ma sia con l'orologio astronomico e sia... quando cominci a fare un po' di esperienza, dici no, quella zona lì la posso accendere un po' dopo, questa invece è meglio che lo tenga un po' su... quando... hai capito? Poi hai ulteriori possibilità di risparmio e se raggiungi certi parametri hai anche il beneficio dei famosi certificati bianchi, non so... Non riesco a capire come mai la tecnologia, a noi serve soltanto per spendere i soldi dei nostri ragazzini con gli smart, con gli... come si chiamano? I tablet e queste robe. Vabbè, ma ne parleremo un poco poco più avanti. Stessa cosa, Sindaco Cimatti, è so che lei aveva un progetto ambizioso che era quello di donare un po' la città, intanto io le faccio... posso fare un complimento? Io abito a Bassano e capisco anche che il disagio di Bassano, chi non è abituato come me a fare i lavori di casa, tinteggiare perché sono signori, io non sono signore, quindi so che vuol dire mettere a posto una casa, per mettere a posto una casa tutti lo sanno, anche la signora Nonna Maria, che bisogna mettere in disordine, perché col cacchio che poi dopo metti in ordine, metti un po' di disordine per accettare, per fare la casa più bella, più accogliente e credo che sia la stessa dinamica per una grande città. Quindi i soloni che mi dicono che è un cantiere aperto, insomma, vallo dire a Torino che sono vent'anni che è un cantiere aperto, stanno facendo la città forse più moderna d'Europa, se non del mondo. Bisogna un po' cercare di condividere e convivere, quindi faccio i complimenti che la città di Bassano e del Grappa è stato un bel casino, però dove avete messo mano? Insomma, io comincio a respirare, sai quella zona rivierasca quando arrivi a Ravenna, il via le Monte Grappa, con questi alberi che prima non si potevano guardare, portavano costi incredibili, l'hanno cominciato a capire anche i cittadini, ma per farglielo capire si è dovuto veramente pressare molto. Stessa cosa, e spostiamo sul campo di golf dove lei ha sbagliato, perché la campagna elettorale contro di lei, e spero che lei non si ripresenti più come sindaco. No, no, ma questo è un dato di fatto ormai acclarato, per cui... Però è stata una campagna abbecera, credo, quella del campo di golf, perché non si può sempre sparare sul soggetto. Guardi, io ho avuto la disgrazia di essere stato un golfista, anche di un certo livello, ho vinto quattro titoli italiani, sono stato otto anni vicepresidente nazionale della federazione italiana, quindi è chiaro che ho una passione per il golf, ma una passione determinata dal vedere cosa vuol dire il golf nel mondo. Uno degli sport più praticati al mondo, noi io mi ricordo già negli anni 70, la costa del solo in Spagna, cosa aveva sviluppato di turismo con il golf. Tra le altre mi dicono anche i dati qui nel Veneto che il golf sta diventando un traino notevolissimo per il turismo, per cui l'ho difeso a spada tratta, anche se questo è un campo da golf, è un modo di dire, parte con tre buche, però ad esempio sentivo dire che c'è un pezzo di terra della parrocchia vicino, che forse il proprietario è interessato a comprare, le tre buche potrebbero diventare sei, poi ci sono dei terreni vicini, quindi secondo me l'importante è cominciare. E ci ho creduto e ci continuo a credere e siccome io difendo le mie idee, io ero stato messo sull'avviso, perché compro questo sistema della denigrazione, era facile dire, io ricordo nel primo consiglio comunale in cui un capogruppo di minoranza ha detto, ah il giocattolo del sindaco, a parte che quello stesso capogruppo aveva fatto una gaffe dicendo che io mi ero comperato la pascia tricolore perché era il mio giocattolo, quindi questo era il livello, però io ho subito voluto chiarire che a me non interessava come giocatore, ma mi interessava per la città e da lì si è innestato tutto un problema, il vincolo cimiteriale e di altre cose e qualcuno l'ha cavalcato a tutti i altri. Benissimo, io vado avanti per la mia strada, perché come ho detto più di una volta, io avevo deciso quando mi sono candidato di fare un solo mandato, proprio per non cadere nella necessità di dover cercare un consenso spicciolo e veniamo alla città, ma voi pensate che aver tagliato tutti quei platani ad esempio di Viale Montegrappa e di quelli che spero presto verranno tagliati in via Scalabrini, che rovinano la strada, che la gente non può passare col carrozzino, che molti sono malati, ci ha divertito? O qualcuno può pensare che avevamo degli interessi con qualche vivaista? O tante stufe. Allora, ma perché non è stato fatto fino adesso? Non è stato fatto perché sempre si lavorava per paura di perdere consenso, il famoso doppio senso in salita Santa Caterina, qui ho il vice sindaco di Pove che fa quella strada spesso, non voglio forzarlo, ma io ho parecchi amministratori della vallata che mi hanno detto finalmente si arriva a Bassano e c'è uno svincolo comodo, però nessuno aveva il coraggio di farlo perché? Perché c'erano dieci piante da togliere e che abbiamo ripiantato, cioè il problema del fare le cose, adesso io voglio ripavimentare via Marinali, ho già delle sollivazioni di gente che dice, ma come? Adesso ci saranno i lavori, quei poveretti che hanno quei quattro negozi, oltretutto vicino al Tribunale, che in questo momento sappiamo tutti la storia del Tribunale, non potranno più guadagnare quest'estate, eccetera. Ma allora lasciamo tutto così? Io credo che bisogna avere il coraggio di fare le cose. Proprio l'altra sera ho sentito un editoriale in cui addirittura parlava del forno crematorio come un progetto scellerato, tutti contro. In consiglio comunale c'è una gente con i cartelloni e ho detto io ho massimo rispetto di quelle persone, ma non me ne importa niente perché sono convinto che tra vent'anni se a Bassano non ci sarà un forno crematorio, noi avremo dei danni tremendi perché le stimolazioni sono sempre di più, perché la gente che vuole farsi cremare è sempre di più, perché è necessario avere una cosa comprensoriale. Se io avessi potuto farlo l'avrei fatto, purtroppo la gara è andata male, non ci sono stati concorrenti che sono stati abilitati. Quindi io dico dobbiamo avere il coraggio di fare le cose e io apprezzo moltissimo quello che ha appena detto Gobbato, perché avere il coraggio anche di spendere oggi senza risparmio, per far risparmiare a chi verrà tra dieci anni è coraggio, è voglia di fare, è visione, vuol dire sarebbe più facile per lui risparmiare qualcosetta adesso fregandosene del futuro e magari fare un po' di pubblicità a quello che fanno, a spendere soldi in comunicazione e io credo che invece i buoni amministratori devono guardare molto avanti perché solo così ci ti ho tenuto adesso, sono emerse veramente cose che a me interessano e credo che interessano poi la gente comune perché a me non me ne frega mica niente chi sarà il prossimo sindaco di Canicattì, diversamente da Rimini, Riccione o Bassano del Grappa o Vicenza. Io vorrei che ci fosse una nuova generazione che riesca intanto a impipparsene di coloro, di quei giornalisti molto delicatamente il sindaco ha detto quei pochi, io invece intendo che ci sono molti giornalisti, l'ordine bisognerebbe riprenderlo e rivoltarlo come un calzino perché c'è un'ipocrisia totale, perché i giornalisti sono pagati stra poco in Italia e sono quasi sempre sotto scacco, bisogna dirle le cose, il giornalista dovrebbe prendere i soldi come un politico, allora sì che direbbe le cose che sente la gente. Ad esempio, ti interrompo un attimo, c'è questa incredibile disparità tra i giornalisti che hanno dei posti antichi, cioè i redattori dei giornali, i giornalisti della TV di Stato, eccetera, e i giornalisti o i collaboratori pagati pochi euro a pezzo dei quotidiani stessi, eccetera, se non addirittura quasi gratis. In realtà gli stipendi alti dei giornalisti classici avevano un perché, se tu hai uno stipendio alto o adeguato, sei libero, nel senso non cerchi altre forme di gratificazione. Non ci si deve nascondere. Se ricevi 4 pipe di tabacco, in qualche modo sei il scacco del tuo editore, ma poi se senti i canti delle sirene da altre parti, vai anche da altre parti. Amato nel 90 disse una frase storica, il 91, subito quando in pratica dopo mani pulite scarcerarono tutti perché alla fine quello fu un grande condono, quello di firmare che non era più illecito penale ma era civile, quindi lì abbiamo aperto una fronda di corruttori che una volta ce li sognavamo. Amato dice la democrazia costa, non è gratis, è vero quello che tu dici. Perché la democrazia ha un costo, ma può per salvaguardare la stessa. Non tutti sono giornalisti, come non tutti sono moratori, come non tutti sono balotelli. E per cui i giornalisti che non sono i balotelli della situazione si trovano in ulteriore scacco, perché quando anche avessero la libertà di scrivere qualcosa, si troverebbero potenziali vittime del nuovo sport della classe, chiamiamola dirigente, e cioè la minaccia della querela. Tu dici, tu puoi dare anche un giudizio forte, motivato, però caspita, perché hai scritto male di me? E questa cosa tappa ulteriormente la libertà. Tu sai che l'Italia come libertà di stampa è il settantesimo, ottantesimo posto. Ci sarà un perché e non da oggi, da anni. Abbiamo un sistema veramente abbottonato. Noi riusciamo, vabbè, io adesso scrivo sul web di un'altra cosa, ma ho collaborato per quotidiani, ho lavorato per televisioni, tutti noi abbiamo comunque un paletto oltre al quale non si va. O perché vai contro gli interessi del tuo editore? O perché ci sono delle, chiamiamole, adesso si chiamano sinergie, per intenderci, tra il gruppo editoriale e altri gruppi di potere? Ma è normale, non è che sto raccontando chissà cosa, è risaputo. Ma la gente è sempre al centro, la gente secondo me è sempre vittima, il cittadino, perché costa fare una campagna pubblicitaria. Io vorrei tanto che un politico, ne inviteremo anche coloro che andranno a Roma, che ci fosse una volta per tutte una legge che non desse più contributi ai quotidiani, che non desse più contributi alle televisioni. Nelle campagne adesso si parla di finanziamento dei partiti, no? Io vedevo ad esempio finanziamenti che sono stati dati a candidati nelle passate elezioni dove si devono dichiarare. Io mi sono sempre fatto una domanda. Io ho finanziato delle campagne elettorali anche di terzi, sempre come Stefano Cimatti, mai come sia S.P.A. Perché ad esempio io mi domando che logica è che un'azienda finanzi un politico. È una buona idea. No, perché l'azienda non ha cuore. Io posso avere a cuore che il politico tale, che ritengo bravo eccetera, ma l'azienda dovrebbe spendere, me lo insegna la guardia di finanza, quando ti fanno un controllo, ti dicono ma questa spesa è inerente alla tua attività? Allora se loro ritengono che sia inerente alla mia attività il fatto di aver finanziato un politico vuol dire che quel politico mi deve dare indietro qualcosa all'azienda e questo secondo me è già un problema gravissimo. Quindi finanziamenti sì eccetera. Ma io dico un'altra cosa che mi ha colpito dei giornali, anche di giornali molto seri. L'altro giorno ho visto i compensi, diceva il titolo, di tutti i manager pubblici del Veneto. E c'era un elenco che partiva da 500 e tanti mila euro, 300 mila, 200 mila, 150 mila. Poi in piccolo sotto c'era scritto, questi non sono i redditi che percepiscono come rappresentanti del consorzio tal dei tali o della società tal dei tali pubblica, ma sono i redditi da loro dichiarati. Allora se uno fa l'avvocato e guadagna 250 mila euro con il suo stipendio e poi fa il sindaco e ne guadagna altri 30 mila, per il cittadino che vede scritto 280 mila immediatamente dice guarda quello che fa il sindaco e piglia 280 mila euro. È scandaloso tante volte come si aizza la gente contro il politico. Ma capisco, noi siamo come Natale a casa Cupiello, cioè non c'è niente da fare. Io capisco bene, però la gente... I politici italiani a livello di regioni, di Parlamento, siano pagati più del dovuto siamo d'accordo, ma io quando a un certo momento sento dire della gente che ci sono sindaci, perché anche i sindaci, ma io non so cosa guadagna, io so cosa guadagno, io non voglio neanche dirlo qua, ma so che ci sono tanti sindaci che pigliano meno di mille euro al mese. Senza contare che poi se fanno un mandato o due e perdono anche il lavoro, fanno fatica ad entrare nel tessuto sociale e già succede e succede spesso, perché il fascino ha anche la notorietà, io metto anche tutte queste componenti, portano a far sì che uno faccia il sindaco, però dice ritorno da te per una cosa... Posso fare una battuta che ho fatto già con diverse persone, io ho sempre pensato che il sindaco fosse una fisura carismatica, prima di farlo per me erano quasi delle persone particolari, ancora adesso se viene da me il sindaco di un comune di mille abitanti che non conosco mi alzo in piedi, lo ricevo, perché per me è istituzione. Bene, io tre settimane fa di domenica ero con mia moglie davanti al municipio di Bassano, sono stato aggredito, non fisicamente a parole, da un signore vestito bene che mi ha urlato davanti a mia moglie, sindaco vada a vedere quei bagni pubblici, viene da vomitare ad entrarci e io gli ho risposto non si preoccupi, domani mattina vado a pulirli, nel senso proprio di dire che non c'è più neanche il rispetto della persona, perché se in azienda da me un dipendente viene da me e mi dice che qualcuno ha sporcato eccetera, io lo licenzio, perché vai dal sindaco per protestare perché il bagno è sporco, perché il bagno pubblico è sporco, non c'è più rispetto della persona. Il sindaco non è che mi sta scoprendo l'acqua calda, voglio dire io ho 56 anni e quando eravamo piccoli, quando eravamo piccoli, ma più o meno la generazione era quella buona, non per dire che voglio sempre, io odio, mi era la pellagra a dire noi eravamo migliori, te lo giuro, credimi Tic, a me mi stava sulle palle quando dicevano i vecchi e noi eravamo un'altra generazione, ma facevate le guerre, ma noi eravamo una bella generazione, giocavamo a pallone, eravamo a contatto con la natura, ci sporcavamo, anzi ci pulivamo le mani con la terra, avevamo il contatto, eravamo anche autori, diciamo così passivi di una trasformazione anche metropolitana dove si divideva tra mezza campagna e l'esigenza di trovare nuovi alveoli per accettare la forza lavoro, ma quando tu trovavi, andavi a prendere il tram, avevi timore del bigliettaio perché aveva il cappello, i poliziotti, avevi il rispetto perché il carabiniere aveva quella divisa e quindi tu riconoscevi qualcosa di importante alla quale dovevi tributare chiaramente rispetto. Caro sindaco, io vedo di quelle cose dalla mattina alla sera, che ahimè, glielo dico, forse lei non si scandalizzerà, io vedo dei ragazzini che sputano addosso ai poliziotti, che fanno le pernacchiotti ai carabinieri e se ne impippano ai genitori che dicono che non è vero, è questo che era il punto di questa trasmissione a me, il fatto che abbiamo perso un'occasione in questi 20 anni, secondo il mio punto di vista, non abbiamo governato politicamente, abbiamo governato pubblicitariamente, allora io non ho nulla contro Berlusconi, ma lui ha rivoltato quest'Italia cambiando il linguaggio, che non era più il politichese Alessandro, ma era di slogan, Forza Italia ne è l'esempio, io quando andavo a vedere l'Italia, allora Forza Italia era sublimatico, il discorso ti appoggiava quello, ha saputo, con grande sapienza, io non discuto, ha cambiato completamente le logiche della comunicazione, ma quello che oggi ci stiamo accorgendo, caro Ticce, che Berlusconi la poteva fare a Canale 5 con tutte le sue aziende, ma noi popolo oggi ci siamo accorti che non siamo Canale 5, non siamo delle aziende, se moriamo di fame è realtà, i reality che ci hanno fatto loro erano cazzate, quindi bisognerebbe che il giornalista riprendesse lo scettro anche a gratis, anche pro bono, ma per una questione di onore e dire guarda che ci hanno preso per il culo. Sì, ci sono dei giornalisti che lo fanno, attenzione, però quello che dici tu mi trova d'accordo, nel momento in cui se tu fai un'analisi dei giornali di una volta, cioè della informazione e dei giornali di oggi, è qualcosa che ti avevo già detto in altre occasioni, proprio con la politica pubblicitaria degli slogan, ha creato un cambio culturale anche nel nostro mestiere. Una volta, se tu vedi un giornale degli anni 50-60, De Gasperi inaugura questo, questo fa questo, dopodiché i titoli dei giornali sono diventati sempre più virgolettati, cioè la notizia è la dichiarazione, questa sera Renzi o Berlusconi o chi per esso dicono qualcosa, domani il porta a porta è dedicato a quella frase, non più al fatto, e veramente noi corriamo dietro le dichiarazioni, il nostro lavoro corre troppo dietro le dichiarazioni e troppo poco dietro i fatti. Caro Paolo, in tutto questo ambaradan capisco che è difficile avere una visione del futuro in una città anche piccola, perché comunque uno ha la visione ma è difficile da vendere in qualche maniera, perché il cittadino esattamente non sa, perché il problema che diceva prima Stefano Cimatti, il nostro sindaco, è emblematico, i politici sono tutti ladri, i giornalisti sono tutti pataccari, invece non è così, ci sono dei politici che non sono per nulla ladri e lo fanno col convincimento, con la passione, con la sofferenza e col dolore, basta soltanto cercare di farli emergere, perché noi facciamo emergere il brutto dei politici, perché spesso quelli, come diceva il sindaco prima, che anche se gli dice il ladro, sbattono le palle, stanno là, quello che gli dice il ladro è una persona onesta, insomma ci rimane male e fa un po' come nei bullisti, sai i bulli, il ragazzo che è fondamentalmente buono, onesto, perde sempre nei confronti del più furbo e qua succede la stessa identica cosa, quindi ho apprezzato molto quel suo ragionamento sindaco. Io parlo della Smart perché io vedo una città nel futuro, un po' come la vedi te, ma addirittura ampliando, oggi abbiamo di quelle tecnologie, viene in mente i QR, abbiamo i telefonini tutti, abbiamo gli Smart che ti danno notizie importanti senza farti perdere tempo, se vuoi andare da quel negozio, ecco come si potrebbe anche ovviare alla decentralità dei centri, dove c'è un centro che è una via molto popolata, dal turismo c'è un grande artigiano leggermente dislocato, ecco questo artigiano patisce perché non vanno da lui, ecco le Smart veramente clicchi e là c'è l'artigiano come una volta che ti fa la ceramica. Sì, ci possono fare i percorsi preferenziali, se uno visita una grande città che può essere Londra piuttosto che Parigi, entra nei portali e c'è il percorso dove ti portano, ti fanno vedere anche le cose che normalmente uno non conosce, la stessa cosa può essere fatta anche nei nostri paesi, però ritornando anche al discorso che mi dicevi prima, fare l'amministratore adesso è poco più di volontariato perché Stefano diceva prima, lo stipendio non lo dice, ma è niente? Sai cosa funziona? Ho fatto il sindaco, sotto sotto, sotto sotto, avete anche un bonus perché le case vagano più cacchio, per cui non è che puoi dire faccio speculazione e faccio le case, non le vuole più nessuno. Poi c'è un problema di comunicazione perché il cittadino è interessato alla buca che vede davanti, il cittadino medio è interessato a vedere che non ci sia la buca davanti a casa sua, se magari c'è a 300 metri non gliene frega niente, però davanti a casa sua il lampione deve essere acceso e la buca deve essere coperta, non ci deve essere la buca. E quindi è anche un problema di comunicazione nella pubblica amministrazione di far sapere quello che si fa, perché a volte si fa molto, ma cosa non visibile, la nostra amministrazione ha lavorato in questi 5 anni anche per sistemare quello che era il bilancio. Fice, cosa si può fare? Noi abbiamo parlato di social network, ma poi anche settimana scorsa in qualche volta e in qualche occasione ti interpello perché tu avendo un portale Bassanonet se non sbaglio, www.bassanonet, andate a guardarlo perché è anche accattivante, perlomeno cerchi di fare giornalista, cerchi. Cerco di fare, tutti i giorni. Non c'entra essere grandi giornalisti, tu cerchi di fare qualcosa. Il giornalista. Cerchi di fare quello, cerchi, perché tu sei giornalista ma cerchi, in questo bisogna dire cerchiamo. Pensa soltanto se il cittadino fosse veramente informato a tutti i livelli delle potenzialità che queste nuove tecnologie potrebbero offrire, io credo che il cellulare lo butteremo via, nel senso che ci sono occasioni uniche, poi darà l'intelligenza parte. Questa è una fase di transizione tra una fascia di cittadinanza di nativi digitali e un'altra di cui faccio parte io, di tardivi digitali. Me compreso. Domani mattina se passo nella smart city del vice sindaco o quando ci sarà, devo prima imparare i fondamentali, però il mondo va avanti. Noi pensavamo da bambini come sarebbe stato il 2000, pensavamo ai dischi volanti, ai marziani e chissà cosa, invece questo è il 2000, questo è il mondo nuovo, dobbiamo adeguarci. Qual è il problema? Che come ha detto il vice sindaco, in realtà quello che ancora colpisce l'attenzione del cittadino è la buca davanti a casa. Io ti posso dire che a Bassano ci sono degli importantissimi progetti per la futura illuminazione sostenibile. Bassano fa parte di alcuni progetti europei di cui capofila la città di Eindhoven in Olanda. Bassano è l'unica città italiana. Insomma stanno facendo delle cose, ecco, naturalmente quando io scrivo questi articoli ho pochi commenti di persone interessate e sensibili a questo tema, quando scrivo, il sindaco lo sa perché ogni tanto lo bacchetto un pochino dell'eliminazione spenta a Bassano e vai, in realtà c'è tutto un discorso, è un tema dibattuto e meno male, questo per dire che poi anche determinati fenomeni di dibattito politico cavalcano, siamo pieni di cavalcanti. Io mi ricordo in un consiglio comunale di Bassano c'è stato un consigliere di opposizione che aveva chiesto l'UMI del fatto perché un funzionario del comune era andato in Olanda proprio perché c'è questo progetto avveneristico. Sono stati spesi 700 euro per questa cosa, dopodiché l'assessore lo ha, come si diceva ai miei tempi, imbruttito e guarda che questi soldi il comune non spende niente perché è un progetto europeo eccetera, per cui addirittura un problema che un funzionario del comune vada ad aggiornarsi nella città capofila del progetto europeo per poi applicare queste buone pratiche a Bassano. Anche questo è motivo di polemica politica, invece di dire vabbè vediamo se questo sistema di illuminazione, se dopo non funziona si attaccherà l'amministrazione comunale, però non c'è questo senso di futuro, c'è il senso del qui e adesso, la buca, gli alberi eccetera e noi comunque cronisti locali ci sguazziamo un po' perché se non c'è un po' Nel progetto Plus abbiamo preso 600 mila euro di finanziamenti europei e anche qui c'è sempre questa forma di voler criminalizzare tutto, il dirigente che va a fare due giorni o tre giorni che sono per lui informativi e quindi di corso, io guardo con molta ammirazione, mio figlio lavora da tre mesi in una grande società multinazionale della consulenza, da tre mesi e l'hanno già mandato la settimana scorsa dieci giorni in Inghilterra a fare un corso, gli costa, ma perché il pubblico non deve formare i propri dirigenti, i propri funzionari che poi portano dei benefici? Una responsabilità l'avete anche voi perché si parla di comunicazione caro sindaco, la gente, quello della buca non sa che oltre alla sua buca ci sono altri problemi che sono più seri, però siamo noi che dobbiamo cominciare a mettere in rete tutte queste informazioni perché lui fa bene, ogni tanto capisco che ci sono anche là nei portali delle esigenze di crescita del tessuto, di cliccare perché è giusto, si vive anche di quello, però è anche giusto cercare di fare qualcosa per educare. Quando io sento trasmissioni che mi viene veramente la pellagra, io amo la televisione, odio la televisione e sento grandi politici parlare che non dicono mai nulla, girano sempre con bisogna fare qualcosa di concreto, ma io qualcosa di concreto lo deve dire mio papà che non sa, che ha 86 anni, un politico mi dice bisogna fare qualcosa di concreto è già da abolire, devi dirmi cosa fare e poi dopo farlo perché se no andate tutti a casa, perché questa è la situazione in Italia. Io temo che sarà un percorso lungo sindaco perché se poi dopo della brava gente, come credo perché vi conosco, siete voi, perché oggi se si dà della brava gente rischi di essere tacciato a Agroli, a Gaccia Paeschei, no? E invece non si può mai dire che brava gente che c'è perché abbiamo un intento comune di idee. E allora mi viene in mente da Papa Francesco che per me è il più illuminante dei papi e lo hanno capito, lo hanno percepito un po' tutti, quando dice che veramente noi dovremmo smettere di chiacchierare, io lo dico da una vita, però non sono Papa Francesco, ma assolutamente, la chiacchiera, il giorno in cui nessuno più si mette a chiacchierare, a quel punto saremo tutti dei giusti e quindi credo che sia questa la… e qua è una provocazione che lancia tutta la gente che ci guarda, poi è gente normale, è inutile andare in chiesa e non ascoltare il Papa quando il Papa dice delle cose interessanti, vergognatevi, è vero, bisognerebbe già cominciare a funzionare così, non vi pare? Chi parla bene poi razzola male. Oh beh ma ognuno ha le sue dimensioni, io credo che il comportamento sia fondamentale e credo che tra le altre, ritornando al discorso di tante volte, quello che uno cerca di far credere di un altro, i mezzi di informazione, la gente è molto meno stupida di quanto la gente possa pensare. Poi io dico sempre che una volta la televisione ad esempio dicevano è vero, è vero, lo ha detto la televisione. Però adesso molto spesso due televisioni dicono due cose opposte, la gente comincia a capirsi qual era la televisione che diceva il vero, quindi si è cambiato un pochino tutto il mondo, tutta la questione. Ritornando ai portali invece che io trovo molto interessanti, io lo seguo, lo leggo abbastanza spesso e apprezzo molto gli articoli, anche i comunicati perché sono sempre una presa di posizione di qualcuno. Le discussioni devo dire che molto spesso mi lasciano abbastanza attonito, perché ci sono delle persone che continuano a fare un dialogo a due all'infinito. Qualcuno mi ha detto, dei miei in passato, ma perché tu non scrivi mai? Perché all'inizio avevo provato prima in campagna elettorale a mandare qualche messaggio. Non lo faccio perché bisogna dedicarci troppo tempo, perché poi mi sfugge un post che magari chiede qualcosa a me e non rispondo, ecco paura di rispondere. Tanto è vero che ogni tanto si legge, ah quello lì non c'è più sul portale, non viene più. Però trovo che sia un sistema veramente molto interessante, anche perché se c'è come il caso di Bassano Net, che è molto puntuale sugli avvenimenti, il fatto di trovare alla mattina o alla sera andando a letto a mezzanotte, magari il post, la nuova notizia comunicata, il locale, eccetera, credo che sia molto molto produttivo dal punto di vista della conoscenza delle cose. Lo abbiamo detto, è in fase di decollo tutto il sistema web e crediamo… ha molti aspetti che devono essere autoregolati come sistema, però è una rivoluzione. Ma questo è indubbiamente, indubbiamente oramai è partito, quindi non è più un caudano. Anche perché se sbagli o scrivi qualcosa di sbagliato, te lo scrivono subito. Però sarebbe più bello che ognuno ci scrivesse col proprio nome, perché delle volte ci sono che ammigliari sono quelli che si nascondono. Ci sono degli insulti gratuiti che proprio… E perché evidentemente l'anonimato… Solo perché è nascosti dietro a questo nickname, perché io credo che… Io apprezzo molto… c'è qualche d'uno che sappiamo benissimo, perché si è classificato chi è e sappiamo benissimo chi sono, Marco 64, Rubic piuttosto che altri, perché è gente che ha messo il proprio… I famosi nickname, famosi nickname. Ha messo il proprio nome, cognome e qualcuno ha anche l'età, perché bisogna avere anche un po' di responsabilità. Lo dicevamo prima, sindaco, le chiacchiere e le calunnie fanno sì che la gente torni come 40 anni fa. 40 anni fa si scriveva sui muri, anche adesso per la verità, e adesso si scrive nell'anonimato o anche su internet. E questo io trovo che sia sgradevole. Io ho le pagine Facebook, tu lo sai, ho dei siti, ma c'è sempre il mio nome e cognome e quindi sanno esattamente da chi viene. Io il prodotto lo voglio mangiare, se so chi è il padrone. È sempre un confronto impare, insomma, perché io, Alessandro Tissi, mi confronto con Pinco Pallino. Che non sai. Ecco. E quindi non sai neanche cosa pensare di lui. No, io so cosa penso di lui e non posso scrivere. Vabbè, non lo dire. Allora, siamo proprio in chiusura. Una domanda breve. Parlo da lei, parto da lei, sindaco. Anzi, no, parto da te, Paolo. La cosa che ti ha dato delusione in questo quarto, ormai quarto anno, siete tra poco. Quinto anno. Quinto anno, sì. Io porto sempre i quadrini olimpico, sono uno sportivo. Ma dopo cinque anni, la cosa che ti ha deluso più di tutto, della vita politica? Beh, alla vita politica intanto bisogna dedicarci tempo. E se non dedici tempo, non fai bene il tuo lavoro. Quindi è una critica che faccio a me. Prima aveva più tempo, adesso non ho più tempo e quindi anche la qualità del mio lavoro è scaduta un po'. Però se posso fare una critica è che ci sono fortissime resistenze al cambiamento. Poco coraggio. Poco coraggio. Questa è la tua delusione. E lei, sindaco, invece? Una su tutte, perché so che ne avrà tante. Ma io la più grande delusione che ho avuto è constatare come tante persone non hanno minimamente a cuore il bene degli altri. Non dico di persone disoneste, ma io ho visto in tanti casi in cui mettendosi nei panni di chi hai di fronte vuol dire magari creare qualche posto di lavoro, ma magari per dei principi che non si capisce bene quali sono, sono contrari. Io credevo che la gente che faceva politica fosse più attenta. Io dal giorno che sono arrivato ho detto ai dirigenti, se voi potete dire di sì a una persona, ditegli di sì senza neanche venirmelo a dire. Io il mio scopo è cercare di dire di sì. Invece ho visto tante volte gente che per principi che non si capiscono cerca di dire dei no. E io credo che la volontà, la cosa che deve cambiare è essere più a disposizione della gente, più al servizio della gente, più aiutare la gente, perché questo è quello di cui c'è bisogno. La conosco da troppi anni, sindaco, e so che quello che dice lei lo dice col cuore ed è vero. E di questo ne sono più che sicuro, anzi ci metto la mano e il cuore sul fuoco. Ti dice, a te non ti dico le cose che ti hanno deluso. Però posso dirti la cosa io che mi ha deluso? E in questa puntata è emerso la gente. Allora se ci rivolgiamo con le frasi di Papa Francesco, perché è lui adesso l'unico simbolo vero, l'unica icona alla quale noi possiamo tutti in qualche maniera prenderne a modello, dobbiamo smettere di calunniare, bisogna smettere di chiacchierare. Quindi questa è la mia delusione, la lascio per penultima perché voglio che chiudi tu. La mia delusione del mondo della politica? Del mondo del giornalismo. Il mondo del giornalismo, e sono collegati, è binaria la cosa. Aver constatato anche in questi anni l'esistenza di rappresentanti politici che dividono l'informazione tra amici e nemici. I nemici sono le testate libere. Possiamo dire che quando li vedi sempre su una stessa emittente c'è da temere? No, non c'è da temere perché alla fine la gente si stufa. E quindi si crea un effetto boomerang ma dritto in testa. Sono d'accordissimo. Bene, amici di O Bianco Nero e proprio tutto per questo puntato, io ringrazio i nostri ospiti. Grazie a Stefano Cimatti, sindaco di Bassanone Grappa, Paolo Gobbato, vice sindaco di Pove del Grappa. Alessandro, alla prossima. Alla prossima. Buonanotte a tutti. Grazie a Stefano Cimatti, sindaco di Pove del Grappa.